e il messaggero, riportano una breve frase buttata lì, forse, non lo so, da Casaleggio ieri, che invece sembrerebbe proprio ripensare questa ostilità o comunque questa chiusura nei confronti del mess. Sta cambiando qualche cosa che lei sappia? No, assolutamente, non che io sappia, penso che in quell'intervista non fosse chiaro il riferimento nella discussione all'uso dei fondi del MES e del fondo salva stati, penso che... Dice Casaleggio, dobbiamo recuperare risorse da tutte le fonti disponibili, anche per la sanità. Certo, benissimo, è questa sicuramente una dichiarazione che però dal mio punto di vista non cambia assolutamente la nostra posizione in questo momento, che rimane di contrarietà per gli innumerevoli motivi che abbiamo raccontato fino ad oggi. Non fosse da ultimo anche appunto il fatto che con la quota di prestiti che abbiamo ottenuto da Recovery Fund andiamo praticamente a coprire totalmente quella che poteva essere la dotazione del MES. Se guarda caso, infatti, sono esattamente quel numero di miliardi in più. Mori a lungo!